Bene amici, ci risiamo, i censori di YouTube hanno deciso che i contenuti che propongo, che proponevo sul canale Landonore non erano adatti alla community e quindi mi hanno chiuso il canale. Per l'ennesima volta ormai ho perso il conto. La causa, non me l'hanno spiegata, potrebbe essere, credo che sia proprio questa, in pratica i due video che ho postato stamattina su quel increscioso episodio che è stato quel missile in pratica che ha ucciso quei due polacchi che abitavano vicino al confine in pratica. Ho spiegato la situazione, infatti avevo fatto due video senza, mi sembra, usare toni tali da poter venire censurato, sono stato molto equidistant, insomma, ecco, mi sembra almeno, ma a quanto pare questi signori non aspettavano altro che il momento per chiudermi il canale. Si vede che la verità che ho proposto in quei due video non andava bene e quindi siamo punte da capo. Naturalmente io riaprirò immediatamente un altro canale che sarà sempre identificato con il nick Landonore a cui ci ritengo tanto. Non ho da vergognarmi di nulla, mi sento di essere un uomo corretto, di proporre le mie argomentazioni in maniera corretta. Non offrendo nessuno, ma a quanto pare questo non va bene, perché quando la verità viene evidenziata come faccio io, dà molto fastidio. Questo è quello che penso. Quindi si ricomincia, la mia presenza su questa piattaforma, piace o non piaccia, ci sarà sempre con il canale MiticoLen, il canale che ho aperto apposta per parlare solo di poesia, d'amore, di storia, di canzoni, appunto che è Landonore un altro mondo, quello non potranno mai censurarmelo, perché parlo solo d'amore, di poesia e di fantasie. E quindi riapriamo immediatamente il canale Landonore, quindi chi vuole seguirmi, anche sul canale diciamo, a cui sono più affezionato. Quello è mica a cui sono più affezionato, perché come ho raccontato nei miei video, è preso da una storia fantasy che sto scrivendo da tanti anni e ancora non ho finita. Il cui titolo è Il sigillo di Uriel. Qualcuno di voi l'ha avrà sentito e visto alcuni di questi video che ho fatto. Bene, vi saluto quindi e vi aspetto sul canale Rendonore, vi vuole naturalmente. E un saluto anche agli amici censori che non conosco, perché altrimenti gli offrirei un caffè o un aperitivo, eh? Gli amici di YouTube che così in maniera sollecita, ecco, mi controllano per vedere se racconto una bugia o se metto la virgola al posto sbagliato. Un saluto a tutti.